E salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con Dragon Ball Z Dokkan Battle Siamo sulla versione global road to quarto anniversario ragazzone è cominciato il countdown vero e proprio E come vedete qua su in alto fieramente vi mostro le 123 stone Ben almeno 100 in più dallo scorso video Questo perchè finalmente con questo countdown sono tornate tutte quante le missioni Ezza Gli eventi Ezza e quindi possiamo riprendere da capo Tutti quei livelli con le stone che non abbiamo assolutamente accumulato E ne mancano ancora un bel po' da fare quindi signori sotto con le stone Perchè quando arriverà il quarto anniversario quando arriveranno gli eventi del quarto anniversario Ci sarà da summonare come se non ci fosse un domani Comunque cosa andremo a fare in questo video andremo comunque a concludere un'altra carta Che avevamo preso in passato però che non ho mai concluso appunto di allenare e di farmare Come vedete che sto usando il team questo è il team che sto utilizzando in quel momento È un team Realm of God con questo signore qua come leader Purtroppo non ho il Goku o il 3 stinto quindi mi tocca usare questo che comunque non è male Chi più 3 attacco HP and F più 50% Come passiva da un chi più 1 attacco e difesa più 20% per tutti quanti il Realm of God del team Comunque sia un mini leader comunque buono free to play Che comunque va a fare tutto quanto il team Ovviamente poi abbiamo anche il nuovo Vegeta Nuovo, insomma nuovo perché l'ho fatto adesso ieri sera Con la trasformazione in God Evolution signori Super Saiyan God Evolution Anche lui è andato a finire nel team quello di Vegeta Quello del Vegeta, quello Evo Si trasforma in tutte quante le fasi Ed è buono come secondo leader appunto per la Battlefield Perfetto signori Ovviamente come Realm of God abbiamo anche il nuovo Gogeta Poi abbiamo anche questo Goku, quello Ezza Sempre del film di Broly Potevo mettere anche Vegeta però abbiamo già lui Comunque vabbè A questo punto ho scelto di fare in questo modo Metterci questo Goku qua Abbiamo poi ovviamente anche il Vegito LR, STR, full power, full ability Signore questa è veramente una potenza Ovviamente è il mio personaggio più forte del gioco Il personaggio più forte che ho E abbiamo poi ovviamente l'altro Vegeta Quello Evo Signori a questo punto direi di andare a concludere L'evento Ezza per Vegeta Perché non ho trans Ho formato soltanto Vegeta L'ho portata da ability 1 E quindi andiamo a farci il trentesimo livello di questo Di questa Ezza qua Che è semplice Con questo team qua addirittura Senza neanche il leader Soltanto con il leader amico E go col tre stinto Possiamo tranquillamente portarla a termine Senza troppi problemi ragazzi Cioè soltanto una volta Sono riuscito a portare il Goku Oltre stinto a master Perché sono riuscito a toccare Il 40% di HP Ma una volta soltanto Quindi insomma È abbastanza easy Anche con questo team Quindi comunque andiamoci a prendere Un Goku Che comunque è potente Per esempio il primo Ability 3 Insomma Penso che sia abbastanza potente Questo ragazzi è il trentesimo Tutorial Perché ogni volta Quando lo sposto dal telefono E quando lo sposto su Bluestack Mi rifa sempre tutto da capo Vabbè Questo ragazzi è il team E quindi andiamo A giocarci quest'ultima battaglia Contro Vegeta E Trunks Signori E andiamo a dargli schiaffi Allora a questo punto Mettiamo Il nostro Kaioshin Con tutta quanta La combriccola Possiamo benissimo Quando ha finito di dare Tutti i link Eccetera eccetera Bla 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 Grazie Grazie Mettiamo fuori rotazione E mettiamo per esempio Il nostro ragazzone qua In prima linea A prendere gli schiaffi Ma tanto tankerà tantissimo Viste comunque STR E andiamo di super attacco Dopodiché attacchiamo Sempre TRUNX con lui E diamo un po' di clean In questo modo Il nostro Kaioshin Potrebbe benissimo attaccare Vegeta Tanto per lui Serve tanto per baffare Poi cioè Fa comunque malino Ora non tantissimo In questo evento Però comunque Un po' di danni Li fa Vediamo un po' Se riusciamo a tancare Il doppio attacco Perfetto Siamo all'ultimo livello L'ultimo livello Dove ci danno appunto Tutte quante Le medaglie Un milione e sette E stiamo andando avanti Egregiamente Tranquillamente Con questo team ragazzi Non è neanche un realm of god Completo Come vedete Ce lo possiamo fare Tranquillamente Quindi anche un Kaioshin Se non ce l'avete C'è anche Mi sembra l'evento adesso Quindi prendetelo Se vi serve 390 Qui questo Gogeta Non è un gran che Però comunque Tanca benissimo E comunque Fa comodo In questo team Perché quando si trasforma I danni mi fa Qui parte Il superattacco 114.000 Come vedete Di Kaioshin Ma non è un gran che Però anche lui tanca E comunque In questo evento Gioca bene appunto Il realm of god Altrimenti A questo punto Non ci saremmo mai arrivati Un altro team probabilmente Ora abbiamo il Goku Ultra estinto Mettiamo forretto azione Questo Goku qua E E E Facciamo così Utranks No sbagliato Mannaggia l'ho messo su Vegeta Vabbè lui va bene Su Vegeta ok Però devo mettere Mannaggia Vabbè Vabbè Tech E Agl E lui Andiamo di qua Con almeno 5 Chi In questo modo Vabbè Comunque Come vedete Siamo sempre a vita piena Quindi i problemi Non esistono Poi sicuramente Si trasformerà anche Il Vegeta In super Vegeta Tra un po' Quindi Poi è buono Perché lui Anche se non fa troppi danni Però fa sempre almeno 2 Additional E quindi comunque è buono Vediamo un po' Se riesce a tancare l'attacco Oh Dai Vegeta 70.000 E i danni se li ha presi Danni se li ha presi Però adesso vediamo un po' Se il nostro Goku Ultra estinto E 1.5 Lui Tra poi ci saranno i bersagli Ci saranno ticket Tutto qua Addition Perfetto Ci saranno ticket E quant'altro Da spacchettare Da sammonare A me mi serve ancora Questo personaggio qua Io Quando è uscito Due anni fa Quasi tipo Questo personaggio Lo ce l'ho soltanto Sulla Giappe Che ormai la Giappe L'ho lasciata al suo destino Non ci faccio neanche Troppe cose Oh Super Vegeta E Se trovassi Questo Goku Il suo estinto Almeno in questo anniversario Con i ticket O quant'altro Perché mi sembra C'era in una sammon Anche lui Quindi Cioè mi accontento Però Non sarebbe male Così almeno completerei Anche il mio Realm of God Però comunque Voglio andare a prendermi Almeno una carta Che potrebbe Un Goku S4 Potrebbe essere Insomma L'idea giusta Di prendermi un Goku All'R di Super Saiyan 4 Ma anche Vegeta Oddio Se devo andare a Vedere Come potrebbero Servirmi Io Vegeta Ho un buon team Il Vegeta Super Saiyan 4 Potrebbe completare Quel team Anche Goku Però Per quanto riguarda Goku Ne ho di meno Vabbè Staremo comunque A vedere Allora a questo punto Mettiamo lui Contro Trunks Especialmente lo shoterà male Con l'ultra attacco Quindi insomma Poi andiamo Contro di lui Con Diamoli Massi Anche lui va bene Se ne frega tanto Ce lo facciamo tranquillamente In questo modo Gli diamo un po' di ki Così E vediamo un po' Se riusciamo a buttare giù Anche Vegeta Sicuramente io penso Con l'ultra attacco Di Super Vegito Almeno 2 milioni In mezzo Forse anche 3 milioni Ce la faccio Se critta Come deve Non ha critato 1 milione 7 Però comunque L'abbiamo shottato E questo va benissimo Final flash Di Super Vegita Contro Vegita God Non ce la fa Vediamo Se lui riesce A fare danni Se critta Sarebbe buono Vediamo un po' Se critta Ha critato 400 mila Mi manca Uno sputo Di vita Al nostro Vegeta E comunque Adesso Il nostro Goku Il Tristinto Lo mettiamo In prima linea E lo farà secco E duro Quindi Non importa Neanche guardare Tutto quanto Il resto Dele frattazioni Lo mettiamo Prima Accanto A Kaioshin E attacchiamo Come se non ci fosse Un domani 203 plus E pass Va benissimo Così I chi si li ha presi I danni Li farà Senz'altro E il nostro Vegeta Nemico KO Ora io l'ho già portato Tour Usando le chiavi Perché l'evento Non c'era In questo momento Però comunque Vabbè L'ho portato Ability 1 Sbloccando la strada In basso a destra In questo modo L'ho già portato A610 E l'ho dato Tutto avanti All'ability Più completa Possibile 1.100 Ciao Vegeta Goodbye Bye bye E va bene Così A questo punto Che abbiamo preso Tutte quante le ultime medaglie L'ultima stone E quant'altro Voglio provare a vedere Se riesco a portarlo Fino a livello 140 A fullezza Non lo so Se ho tutte quante Le I Kai Da dare Ovviamente Quelli verdi Quelli tech Non ce l'ho tutti quanti Però comunque Vediamo un po' Se riusciamo Che a questo punto Posso andare anche oltre E oltre Però tanto Non mi danno più Cioè mi danno soltanto Le orbe E basta A me interessano Tanto le stone Quindi A questo punto Andiamo a fare L'awaken Quindi prendiamo Questa obesità qui Tech Ultra UR Tech Ed eccolo Ed eccolo qua E' proprio lui E' proprio il nostro ragazzone Lo portiamo A questo punto La versione tour Bam 120 Di livello E non so Neanche poi Tutti quanti gli oggetti Anche per allenare Spero di si Comunque Oh training Comunque Cioè Da una parte Sarebbe stata forse Meglio anche Trunks Perché baffa un sacco Però comunque Prevedivo usare Vegeta Perché comunque Trunks Trunks è Trunks E io lo vedo Trunks Come un personaggio Un Saiyan Che c'ha un limit Dopo di quello Ormai Basta Stop Quindi prevedisco Usare sempre Vegeta In qualsiasi modo 120 su 120 Anche perché Vegeta Cavolo Il principe De Saiyan Trunks Trunks E Trunks Può essere Chi gli pare Ma Trunks Non sarà A parere mio Mai al pari Di Vegeta Ma Awaken E andiamo a cominciare A dare le prime medagliozze Per farlo salire Fino a livello 140 Manca un po' Di oggetti Per l'allenamento Voglio vedere Se magari faccio Qualche tipo Qualche multi Summon Friend In modo da Dare qualche personaggio Insieme ad allenamento Qualche luogo Forse spendo Meno risorse Ecco Andiamo un po' Comunque Adesso possiamo Alzare l'attacco Speciale Che Non so se È necessario Per forza Per l'awaken Non mi ricordo Se è necessario Farlo Per awakenarlo Ancora Ora dove sta Eccolo qua No voglio Soltanto fare L'awaken Drop Awaken No posso Aquinarlo stesso Quindi L'SA Lo posso fare Benissimo anche dopo Ah si Comunque nel senso È vero Perché l'ho fatto Già anche con Broly Hai ragione Broly non c'ha SA massima Alleniamolo Ancora Gli oggetti ce l'abbiamo Questo mi fa piacere Mi fa davvero piacere Ok Vai avanti Così guarda L'attacco Quanto va su Ragazzi Questa è una bestia Ancora E questo dovrebbe essere L'ultimo Se non sbaglio L'ultimo 140 E 15 SA Abbiamo la passiva Adesso che è Baffata Quindi Andiamo ad allenarlo Fino a 140 E vediamo Se vediamo Tutti quanti Kai Se ci sono 4 Kai Verdi Mi sembra di si Diamo anche Uno di quelli Int Che se ne frega Va bene Ok Vediamo un po' Andiamo su Remove Deck No ce l'abbiamo Tranquille Tranquille Ce l'abbiamo Tutti Guarda lì Che roba Vai A posto 5 Kai SA 15 E il nostro Vegeta Eza è completo Quindi comunque Andiamo un attimo A vederlo Dettagli Lui fa parte Di Pursaean Ramal God The Future Saga Tampere Ha un sacco Un sacco di roba Vegeta Family Quindi giocherebbe benissimo Anche nel team Di Pursaean Quindi ovviamente Come passiva Abbiamo Ki più 2 Attacco e difesa Più 90% A tutti gli alleati Attacco e difesa Più 30% Quindi un con buon buffer Quando usa 2 o più Vegeta's Family Quando ci sono più di 2 Cioè Ci sono 2 o più Memmi della famiglia Vegeta Nel team I memmi della famiglia Vegeta Intende appunto Anche Vegeta se stesso Quindi Ottimo buff Da mettere In questo team qua Signori Lo mettiamo subito Nel team di Vegeta Al posto di Al posto appunto Di questo Vegeta qui Di un elemento appunto È lui Perché non possiamo Utilizzarli insieme Quindi proviamo Questo team Con questo Vegeta qua E penso che possa andare bene Con questo quasi full Ezza Purtroppo manca l'ability Mancano 2 copie Ma va bene Così ragazzuoli Prossimo video Andremo a finire Qualche altro personaggio Sicuramente Utilizzando appunto Questo team qua Vediamo anche Tutte quante le missioni E nel frattempo Mi finirò Uh Le stone Ma è perfetto Ma è benissimo E nel frattempo Mi finirò anche Le altre Ezza Fin quanto è possibile Per accumulare Altre stone Per questo Anniversario Signori Ragazzuoli Possiamo concludere qua Anche questo video Come al so Se vi è piaciuto Dovete lasciare Tanti tanti Per questo Nuovo Vegeta Super Saiyan God Ezza Lasciate posto Tenere commenti In quale team Lo avreste messo Se ancora non siete iscritti A questo canale Vi invito a farlo Cliccate sulla campanella Per ricevere Ogni notifica Di questo canale Seguite Anche su Instagram Noi ci vediamo Un prossimo video Ciao a tutti Ragazzi